E' possibile immaginare che adesso si potrà tentare di boicottare, almeno alcune donne del PD lo stanno facendo immaginare, di boicottare il numero legale o perlomeno di riaprire la questione al Senato? Si può immaginare tutto, io vorrei un po' più di coraggio prima, ho sentito persone che sono intervenute oggi dire delle cose straordinarie però non avevano neanche firmato un emendamento. Vorrei capire se la discussione politica la facciamo prima o se tutti quelli che dicono abbiamo un sacco di problemi, abbiamo una legge che non tutela le minoranze di nessun genere perché l'8% è una soglia altissima che non garantisce di essere esecutiva immediatamente perché il Senato non lo facciamo, stralciamo perché prima cancelliamo il Senato, è una cancellazione psicologica del Senato, facciamo finta che non ci sia. È una legge che ha dei vizi in costituzionalità, se uno lo dice non è un rompiscatole, non è da vivere come il nemico di Renzi e di Berlusconi che peraltro sul secondo uno dice ancora un po' di anti-berlusconismo, me lo voglio ritagliare. È la riflessione sulla qualità di quello che stiamo facendo che è un pasticcio e spero che donne e uomini di tutte le età del PD se ne siano resi conto anche stasera. Si potrebbe spaccare il PD a questo punto? No, il PD si è già spaccato oggi, abbiamo dato uno spettacolo indecoroso, noi potevamo votarla da soli con Sella e pochi altri parlamentari, c'era una maggioranza schiacciante, il PD qui al premio di maggioranza incostituzionale che noi ci siamo messi a cambiare la Costituzione con un Parlamento che non è illegitimo, però insomma potrebbe anche risolversela in qualche mese e ridare la parola ai cittadini. Quindi non l'abbiamo voluta votare e ripeto, la cosa più umiliante è sentire parole straordinarie, retoriche, veramente questa voce stentore del PD che dice bisogna fare la parità di genere, poi boccia quella del 50-50, boccia l'alternanza uomo-donna, arriva all'esausto emendamento del 60-40 e boccia pure quello. Io però sostenevo se il PD ufficialmente potrebbe spaccarsi. Non lo so, io non spacco niente, io mi mortifico e chiedo scusa agli elettori anche per conto degli altri, io ho votato ovviamente sì a tutti quegli emendamenti che arrivavano, anche quello di Pia Locatelli, Andrea Romano e degli altri.